Buonasera, salutiamo Romano. E ora la parola al nostro candidato sindaco Virginio Merola. Buonasera, buonasera, grazie, cari amiche e cari amici, grazie, grazie, cari compagni e cari compagni. È una bellissima serata. È arrivato anche Romano Prodi, cosa potevo volere di più. Grazie. Vedo persone tra voi che ho già incontrato in questa lunga campagna elettorale che è cominciata a novembre, come sapete. Ma siete tanti, di più questa sera. Siete una piazza bellissima. Voglio meritarmela, però, perché non è solo mia, come è evidente. Permettetemi di dedicare questo discorso a piazza maggiore. La piazza della liberazione, dove hanno sfilato insieme i partigiani e gli alleati. La piazza delle grandi manifestazioni del lavoro, dove generazioni di giovani continuano ad incontrarsi, dove si sono svolti concerti straordinari, dove ci siamo tutti riuniti attorno alle vittime delle stragi. La piazza di San Petronio, una piazza democratica e felice, dove suonano gli artisti di strada. Piazza maggiore, la piazza di tutti i bolognesi. Di tutti i bolognesi. E poi qui penso a David, il bimbo morto a gennaio, in questa piazza. E mi chiedo, come mai nessuno chiede più di lui, come mai questa amnesia, come mai questo vuoto di memoria recente, dov'è la Bologna generosa, vera e forte, che conosciamo, la Bologna che fa notizia per la sua indomabile democrazia e solidarietà, dov'è finita? Perché questa Bologna è diventata quasi invisibile? E invece c'è, per vederla bisogna avere il coraggio di guardare fisso negli occhi la Bologna di oggi, anche nelle sue fragilità. Io ho conosciuto la Bologna che non si racconta, che non fa notizia, che non fa lobby, che non fa gossip, che vive senza spiegare agli altri come si deve vivere. Ho ascoltato in questi mesi le voci che sembrano inutili, quelle che aprono squarci sulla realtà come è, non come vorremmo rappresentarla. E in questi mesi mi sono riempito gli occhi di una città generosa e coraggiosa, che non vuole schivare la realtà, che vuole continuare a sognare. E allora grazie, davvero, grazie ancora, perché ora la vedo, la Bologna che siamo, è qui, è in questa piazza, ora la rivedo, come l'ho visto per 200 lunghi e meravigliosi giorni di campagna elettorale. E qui, in piazza maggiore, siete voi, questa è la Bologna senza amnesia, lucida, nella memoria, straordinaria, nel concepire ogni giorno il suo futuro. Ho scelto, come sapete, di iniziare il mio viaggio elettorale dal pilastro, il quartiere del riscatto, caro Calderoli, dove oggi il 60% delle case è in proprietà e generazioni di uomini e di donne sono diventati bolognesi, dove oggi giovani nati qui e figli di migranti studiano e lavorano insieme e in posti come il pilastro che ogni giorno Bologna fonda su basi solide la promessa della cittadinanza. E nel mio viaggio ho incontrato le famiglie bolognesi nel mezzo di questa crisi la disoccupazione non ha mai colpito così duramente la nostra città. E l'8 marzo ho incontrato le operaie della Perla in mobilitazione per difendere il loro posto di lavoro e la loro professionalità e pochi giorni fa sono tornato a Zola Predosa insieme al mio partito per incontrare gli operai della Verlicchi. La Perla La Perla La Perla e la Verlicchi due esempi dei danni causati da un'economia fuori controllo e fondata unicamente sulla speculazione finanziaria. Noi siamo per un'economia giusta come la chiamata Edmondo Berselli un grande narratore della nostra vita comune. Grazie Edmondo ti ricorderemo e ancora ho incontrato gli artigiani e gli imprenditori della città gli operosi che si battono quotidianamente sorreggendo sulle loro spalle il nostro sistema produttivo imprenditori artigiani che qui a differenza di altre parti d'Italia hanno accettato di mettere al primo posto il lavoro e la responsabilità sociale è una cosa però la voglio dire in questa piazza l'applauso dell'assemblea di Confindustria di fronte alle morti bianche della Tissen è una cosa rivoltante e in questi mesi ho riscoperto la città degli ultimi le persone senza casa che dormivano per terra in via capo di Lucca e ho parlato con i penultimi quelli che lavorano per quattro e sono due quelli che pagano mutuo e che rivendicano per i loro bimbi il diritto ad un nido pubblico vedete alla fine di questo viaggio ho una convinzione in questi anni siamo rimasti come sospesi tra la nostalgia del nostro grande passato e la delusione per questo presente quasi come bloccati da una politica che da ogni lato da ogni latitudine ha preso molto di più di quello che ha dato il viaggio di questa campagna elettorale dalle primarie a questo bellissimo palco e a questa bellissima piazza ha dimostrato a tutti noi quanto sia necessario per i cittadini tornare a fare politica in prima persona alleandoci con la città non con il ceto politico alleandoci con i cittadini la buona politica quella che ha il coraggio di navigare in mare aperto che decide di mollare gli ormeggi che smette di vivere di rendita è ora di avere memoria degli elori che abbiamo fatto e di affidare la guida del cambiamento e del futuro ai giovani e alle donne di questa città e la mia giunta sarà un equipaggio fantastico di giovani e di donne capaci e appassionati di Bologna senza raccomandati molti di noi molti di noi sanno e lo sanno con l'intelligenza del cuore che dobbiamo essere all'altezza delle passate generazioni dei valori e degli ideali che ci hanno trasmesso tocca a noi a noi fare cose altrettanto belle per il nostro futuro essere all'altezza della statura di questa città è il nostro compito collettivo e ce la faremo perché lo faremo insieme vinciamo a Bologna e andiamo in direzione ostinata e contraria a questa destra populista e autoritaria incapace di governare per il bene dell'Italia e di tenere uniti gli italiani vinciamo Bologna e lottiamo contro la precarietà del lavoro per dare ai giovani la certezza di una vita degna vinciamo a Bologna per dire stop al consumo di suolo e alla devastazione del paesaggio nelle città italiane trasformeremo trasformeremo le periferie in nuovi centri urbani puliti e attraenti e realizzeremo a Bologna una grande penalizzazione nel nostro centro storico ma soprattutto ma soprattutto io mi impegno qui davanti a voi ad amministrare con disciplina e onore come vuole la nostra costituzione come sapete il mio viaggio non è mai stato fatto di scorciatoie oggi siamo qui per mettere la parola fine a false promesse ai dogmi stanchi che troppo a lungo hanno strangolato la nostra politica è arrivato il momento di mettere da parte il passato che non ci piace di affermare il nostro spirito più tenace di scegliere la strada migliore di portare avanti quel dono prezioso l'idea nobile di Romano Prodi che è la base fondativa del partito democratico il PD questa è l'idea il PD è il partito dei cittadini è il partito che vuole allargare la democrazia nella vita quotidiana degli uomini e delle donne delle città d'Italia e io continuerò con questo partito al fianco a essere il sindaco che consuma la suola delle scarpe tra la gente insieme a Cevedini cari amici cari compagni ma per fare bene alla nostra parte nessuno nessuno deve stare a guardare o votare solo perché è indignato giustamente da questa destra non basta più indignarsi non basta più essere contro lo dico in particolare ai giovani del Movimento 5 Stelle chi non si unisce agli altri contro questa destra autoritaria e razzista fa lo sbaglio dell'Avaro Avaro perché Avaro è chi pensa di risolvere i problemi da solo mentre la buona politica è risolvere i problemi insieme agli altri ed è anche giovani del Movimento 5 Stelle la vostra un'avarizia miope perché dove governa la destra non si può dire no al nucleare e sì all'acqua pubblica come invece potete fare con noi e non si possono difendere i diritti civili i diritti sociali i più deboli dunque cari democratiche e cari democratici noi sappiamo che Bologna è una città coraggiosa giusta generosa che non è la villa di Arcore e che non sarà una città razzista in queste ultime ore parliamo agli sfiduciati e ai delusi diciamo che qui c'è un'Italia migliore diciamogli di salire sul palco della loro vita di aprire le finestre e a piena voce gridare non siamo in vendita Bologna non è in vendita l'Italia non è in vendita e dite con voce ferma che il voto è libero e che il voto è la libertà di lottare per cambiare le cose quindi noi andremo a votare e andremo a votare perché siamo di sana e robusta Costituzione e andremo a votare per un nuovo inizio di Bologna avanti avanti insieme avanti per Bologna e per l'Italia grazie grazie